ai caduti di Nassiria, questi qui, questo è dedicato a loro, vediamo chi erano questi caduti a Nassiria Massi, Liano Bruno, Alessandro Cassini, Carrisi, Giovanna Cavallo, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Colletta, Emanuela Ferraro Sono tutti maschi, Massimo Fusino, che fai? Sali sopra questa gente, ti sembra rispettoso? Ti sembra rispettoso? Andrea, Filippa, Enzo Fregosi, Daniele, Ghioni, Ivan, Ghitti, Domenico, Inna Travaglia, Oricio, Marco Cacio Maiorana, Filippo Merlino, Silvio Olla, Pietro Petrucci, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone, Marco Becci e Stefano Rolla Questa è una parte, accadeva il 12 novembre del 2003 a Nassiria, vediamo un po' da quest'altra parte a leggere Allora, fammi sentire Irag e Afghanistan Questi? Questi in Afghanistan, ne sentite parlare in questi giorni dell'Afghanistan Questi sono morti in che anno? 1998-2009 Allora, Carmine? Collo Calò Giovanni? Bruno Dall'altra parte c'è Bruno Vianini, levati coi piedi sopra Michele Giovanni Sanfilippo Bravissimo Manuel Fiorito Luca Polsinelli Bravo Carlo Liguori Bravo Giuseppe Orlando Bravo Giorgio Langella Vincenzo Cardella Lorenzo Dauria Dauria Rosario Bonziano Rosario Bonziano Poi prendiamo da sotto Roberto Valente Roberto Valente Davide Ricciutto Massimiliano Randi No Rannino Gian Domenico Pistonami Pistonami Matteo Murendu Mureddu Antonio Fortunato Alessandro Dilizio Arnaldo Furcucci Alessandro Caroppo Giovanni Pezzulo Daniele Paladini Questi caduti in Afghanistan Da quest'altra parte? Iraq Questi sono morti in Iraq Tutti italiani Questi 2003-2006 Antonio Leva quei piedi un po' Antonio Tarantino Tarantino Matteo Vanzano Fabrizio Quattrocchi Poi ti dico che cosa ha detto questo signore Ricordamelo Enzo Baldoni Massimo Biondini Marco Briganta Briganti Davide Cassagrande Bravo Marco Cirillo Bravo Simone 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 Colla Colla Prendiamo da qua Passiamo da sotto Massimo Vitaliano Vitaliano Alessandro Bibiri Bibiri Franco Latazio Enrico Frassani Frassanito Carlo De Trizio Nicola Cerdelli Delli Nicola Calipari Calipari Salvatore Domenico Maraccino Giuseppe Lima Allora in Iraq in Afghanistan e a Siria Questo è il monumento dedicato a loro Ce n'è un'altra che spiega Pure qui che dice Ecco questa allora foresta d'acciaio La foresta d'acciaio L'operazione Sculturale Opera Scultura Di Giuseppe Spagnolo Opera Architettonica Di Lucio Agazzi E Maurizio Costa Curta Nicola Agazzi Gabriele Amadori Enrico Poco Pagni Paolo Pittalunga Questi sono gli artisti Quelli che hanno fatto tutto questo Questi che hanno fatto Questa foresta d'acciaio Ricordatevelo Che si chiama Foresta d'acciaio E adesso è stata accesa Passaci dentro Aymar Che ti riprendo Bravi 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 Adesso andiamo da bibbo Adesso andiamo da bibbo No Tu non ti sei guadagnato niente Non ti sei guadagnato niente Perché sei montato pure quei piatti là sopra Perciò niente gelato Grazie a tutti Grazie a tutti